Oggi Linea Verde va a punto 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 a Udine. 18 grado puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica Dedenaro.Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde punto 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 va in città. Ogni puntata è un viaggio originale attraverso la nuova tendenza, che vede le città teatro di un rinnovato rapporto con l'agricoltura attraverso una cresciuta cultura dei cibi, delle tradizioni e dell'ambiente.Linea Verde va in città, 13 gennaio 2018, 18 grado puntata, i temi e le mettenella 18 grado puntata in onda oggi si va alla scoperta di Udine. Chi ha inventato il tiramisù? Qual è il segreto del prosciutto di San Daniele? Si può ottenere un nuovo senza avere una gallina? Proprio come una volta, a Udine ed intorni si producono ancora cibi unici, come la brovada, un prelibato contorno di rape bianche fermentate nella vinaccia, o il prosciutto di San Daniele, che si può produrre solo nell'omonimo paese, dove abilissimi artigiani hanno imparato da secoli a sfruttare tutte le potenzialità di un territorio esposto a venti che arrivano sia dall'Adriatico che dalle Alpi.Maudi nella tradizione si proietta costantemente nel futuro. L'innovazione nasce anche tra i banchi dell'università, dove si sperimentano di continuo nuovi prodotti alimentari da brevettare e lanciare sul mercato. Un esempio? L'uovo non uovo, un prodotto interamente vegetale inventato da quattro studentesse per dare la possibilità di mangiare quello che sembra un uovo sodo anche a chi è allergico alle uova vere e a chi deve tenere sotto controllo il colesterolo.Udine, tiepolo dietro l'apparenza elegante e riservata della città, Udine nasconde un cuore caldo e accogliente. Per entrare in contatto con il suo spirito più autentico, basta fare un giro in centro all'ora dell'aperitivo. La capitale del Friuli, infatti, è la città del Tiepolo, ma anche del Tayut, l'irrinunciabile bicchiere di vino che in tarda mattinata raduna gran parte della popolazione nell'osterie.Infine, il viaggio tra i sapori udinesi approderà il dolce italiano più amato e conteso il tiramisù, recentemente riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale del Friuli Venezia Giulia. Una paternità che ha scatenato qualche polemica, ma che ribadisce l'orgoglio italiano per il successo mondiale di questo dolce semplice eppure irresistibile.